Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto desktop V-Box Supernova 117. V-Box Supernova 117 altoprestazioni, Gamin Gamer, PC Veloce 4, 0GHZFX 8350 GTX 660. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.